Qui Roma, Stadio Olimpico, teatro di un nuovo eccezionale avvenimento. Abbiamo infatti per la prima volta uno spareggio per la conquista dello scudetto. Tira a Bulgarelli, tocca per Fogli. Retro, ha segnato Fogli, Bologna 1, internazionale 0. Manovra Fogli, si piazza Nielsen, riceve. Retro, reddoppio. L'arbitro consacra in questo momento il Bologna campione d'Italia. Grazie.